Ciao amiche, ciao amici, benvenuti all'interno di questo contenuto. Qualche tempo fa, all'interno di questo video, ho fatto una mega guida dedicata a Bybit, a tutte le funzioni, a tutti i servizi che vengono offerti da questo exchange, che tra l'altro, vi ricordo, secondo CCData, ve ne ho parlato in questo video, è uno dei migliori exchange attualmente sulla piazza. CCData è un'azienda americana che fa ranking, ranking, valuta quanto è sicuro l'exchange, quanto sono sicuri i fondi, quanto sono buoni i servizi, quanto sono disponibili l'uptime dei server, se ci sono delle manipolazioni dei prezzi all'interno dell'exchange, insomma, prendono tutti questi parametri, li mettono insieme, danno un voto finale. E Bybit è risultato essere fra i primissimi posti, quindi un exchange ottimo, sia a livello di utilizzo, e io sono il primo sperimentatore, il primo utilizzatore, sia a livello formale, CCData ce ne dà riscontro. Detto questo, come tutti gli exchange, non stanno mai fermi, non si mettono mai lì con mano in mano, dice oggi non facciamo niente, questa settimana, questo mese, non facciamo nessuna upgrade. L'hanno fatto e hanno portato una serie di prodotti, alcuni c'erano già e ve li ho fatti vedere all'interno del video, altri invece sono stati sviluppati ultimamente. Oggi voglio farvi vedere tutto quanto perché sono tutti servizi, ne vedremo quattro in particolare, che servono a guadagnare senza fare niente. Lo so, quando sentite testuali parole, la prima cosa da fare sarebbe stoppare il video, disescriversi al canale del creator, chiudere tutto, non considerarlo mai più per il resto della vita. In questo caso vi prego di fare un piccolo strappo alla regola, seguitemi perché non vi sto proponendo sistemi di trading automatico che vi renderanno ricchi, modalità, procedure per non lavorare più nel resto della vostra vita, non c'entra niente, anzi sono totalmente contrario a chi fa questo tipo di comunicazione. In questo caso, affiancato a tutti i servizi dell'exchange, ci sono dei piccoli servizi che in cambio di alcune azioni vi danno dei vantaggi. Quindi in questo caso è proprio un doubt-desk, l'exchange ci chiede di fare qualcosa in forme differenti che ora andremo a vedere e in cambio ci dà dei piccoli premi, dei piccoli airdrop, che in alcuni casi però non sono proprio così piccoli. Io ne ho esperienza diretta, in alcuni casi effettivamente possono essere anche qualche decina e centinaia di euro. Ripeto, non voglio ingolosirvi con guadagni infiniti, enormi, che vi renderanno ricchi, vi cambieranno la vita. Non è questo il mio scopo, ma andiamo subito a vedere i servizi e poi vi potete fare tranquillamente la vostra idea. Benvenuti quindi all'interno dell'exchange di Bybit, se siete già registrati bentornati, se non lo siete ancora potete registrarvi con il link qui sotto, bonus sulle commissioni per sempre, bonus di ingresso, in questo momento per esempio c'è 200 dollari di posizione long o short regalati da Bybit solamente per iscrivervi e depositare 100 dollari. Poi se chiedete la Bybit card altri 25 euro gratis, più 10 euro per ogni amico che invitate, insomma un sacco di roba, trovate sempre i migliori sconti qui sotto in descrizione, quindi i migliori bonus del momento specifico. Se andiamo all'interno di Trade e procediamo nella sezione Spot X qua in fondo, vedete che c'è questa parte, questo menu che dice Overview, quindi Overview benefits from new listings on Bybit spot in many ways. Ecco qui quindi, troviamo che ci sono dei progetti, il Launchpad, vedete Ongoing Projects, quindi i progetti che stanno andando in questo momento, che stanno lanciando in questo momento, Launchpad, poi qua sotto abbiamo Launchpool, che sono due cose diverse, attenzioni, Airdrop Hunt e Token Splash. Queste sono le quattro sezioni, i quattro servizi che andremo a vedere, ad approfondire adesso per capire cosa cambia dall'uno all'altro. Partiamo dal primo, Launchpool. Launchpool permette di guadagnare, per esempio in questo momento c'è il lancio del token Merl, in questo momento è possibile partecipare a questo Launchpool che ci permetterà di guadagnare ulteriori token Merl. In che modo? Ci permette di guadagnare token Merl o mettendo dei Merl in staking. Attenzione, la parola staking in questo caso è un pochino, ha un utilizzo leggermente diverso da quello che sarebbe staking on chain, ma non vi preoccupate, prendiamo la parola per quello che è, ossia stake, bloccare, mettere da qualche parte e bloccare lì per qualche tempo. In questo caso potete o mettere in stake dei token Merl, quindi in questo caso i Merl, il token Merl è già listato all'interno di Bybit, il Launchpool non va a lanciare nuovi token, ma va a dare dei bonus con un token che è già all'interno della piattaforma. Per esempio in questo caso potete bloccare o il token Merl o il token USDT, quindi USDT classico, che praticamente sarebbero dollari, per ricevere delle ricompense. Chiaramente vedete che bloccando il token Merl, l'APR, quindi diciamo il guadagno stimato, è più alto, 330%, se mettete USDT, guadagno stimato è del 73,44%. Chiaramente perché? Perché in questo caso vi state esponendo al token Merl, che è un token volatile, mentre USDT non è volatile, quindi la ricompensa per un token volatile, soprattutto che non è listato da molto, che non ha un progetto che ha anni e anni di storia alle spalle, chiaramente è un pochino più rischioso a livello di prezzo, e quindi per questo c'è un incentivo maggiore, un guadagno maggiore nel mettere in staking Merl. Ora questa cosa è identica tutte le volte che viene fatto un nuovo launch pool, cioè APRS è stato lanciato qualche tempo fa, vedete in marzo, diciamo a fine di marzo, inizio aprile del 2024, in questo caso come potete vedere era possibile qua avere una pool direttamente in APRS oppure in USDT, oppure in questo caso c'era anche la pool in Bitcoin, quindi stake BTC to earn APRS, metti blocca Bitcoin per guadagnare APRS, oppure qua c'era ENA, vedete che anche ENA era solamente con ENA oppure USDT, Nibi uguale, di solito è a 2, in questo caso appunto con APRS è stato a 3. Ora attenzione, domandona che mi viene fatta di solito, ma i token che metto dentro vengono bloccati o mi vengono ridati? Ragazzi, chiaramente vi vengono ridati indietro, questa è una modalità in cui si richiede di bloccare dei token e poi alla fine del periodo vi vengono ridati indietro, i token che avete bloccato più l'interesse, quindi è una modalità in cui andate a guadagnare tranquillamente o in USDT o nel token appunto che stanno lanciando nel launch pool in quel momento. Cosa differente invece è la sezione launchpad, questa è la sezione launchpad. Launchpad sono i progetti che vengono realmente lanciati sull'exchange per la prima volta, quindi sostanzialmente che vengono listati. In questo caso i guadagni sono anche un po' maggiori, perché quando un exchange lancia un token, soprattutto un exchange delle dimensioni di Bybit, solitamente il gain che fa istantaneamente il token o diciamo nel giro di poco tempo è parecchio interessante, è per questo che infatti i launchpad sono ancora più interessanti secondo me dei launchpool, ma premesso che sono due strumenti differenti, si possono usare tutti e due. Launchpad sono un po' meno spessi, i launchpool invece sono praticamente a ruota continua, quindi da una parte magari si guadagna un filo di meno, ma in maniera continua, il launchpad invece quando avviene è bene partecipare quasi sempre. In questo caso P-Books stanno lanciando in questo momento, le sottoscrizioni finiscono in questo caso entro un giorno e 46 ore, pardon, in un'ora e 46 minuti, per esempio vedete che potete scriverli con i MNT, che MNT sarebbe Mantle, che di fatto non è stato mai detto ma è un po' il token di Bybit, quindi sta iniziando a diventare in tanti casi il token di riferimento di Bybit, un po' come BNB lo è per Binance, come CRO per lo è per Crypto.com, MNT non nasce esattamente come token di Bybit, ma nel corso del tempo più o meno lo sta diventando. Dopodiché vedete che abbiamo la sottoscrizione in MNT che vi dà un'allocazione sicura, vi dà un'allocazione sicura in P-Bucks, quindi quando voi fate un'allocazione sul launchpad con MNT, quindi bloccate MNT, avete automaticamente un'allocazione sicura, mentre per quanto riguarda USDT è una lotteria, quindi si possono fare delle azioni per vincere dei ticket, dei ticket proprio della lotteria, che poi saranno estratti e nell'estrazione io potrei vincere alcuni, in questo caso P-Bucks, chiaramente poi di volta in volta cambia il token lanciato. Vedete che in questo caso per la lotteria ci sono, ora su questo esempio, 2 milioni di P-Bucks, un P-Bucks verrà lanciato al prezzo di 0.075 USDT, allocation per winning ticket, quindi ogni ticket vincente sono 200 P-Bucks. Ora, attenzione, può sembrare una cifra irrilevante, 0.075 per 200, ma più o meno farà un 15 dollari, che comunque uno li mette in saccoccia e li tiene, non capisco perché dovresti buttarli via. Ma ricordatevi soprattutto, questa è la cosa più importante, che al lancio i vari token del launchpad, fanno spesso tra il 5 e il 10 per, quindi 0.075 diventa 0.75, facciamo un conto con un 10 per 0.75, per 200 vuol dire che più o meno uno si porta a casa 150 dollari, poi fossero 120, 100, 80, 70, io non credo che nessuno li butti via, cioè li metti nel portafoglio, li utilizzi, è meglio averli che non averli, soprattutto perché non c'è niente da fare se non partecipare, cioè il rischio di controparte, il rischio di perdere i soldi è totalmente zero, non c'è niente da fare se non bloccare i propri USDT per qualche giorno, sperare di vincere la lotteria, nel caso degli USDT, chiaramente questa è la parte che va un po' a fortuna, e poi andare a riscattare i propri dollari. Se invece, ripeto, volete una sottoscrizione sicura di, in questo caso P-Bucks, ma insomma del token che viene lanciato, potete tranquillamente sottoscrivere in, comprare delle MNT, sottoscrivere in MNT e quindi aspettare che vi vengano dati. Per partecipare alla lotteria, la prima richiesta è di avere almeno 100 dollari, di solito alle volte 100, alle volte 200, e poi ci sono delle modalità per aumentare il numero di ticket, di solito fino a 5 ticket, quindi un ticket lo ricevete se avete almeno 100 dollari in holdings, per il periodo del, per tutto il periodo del launchpad, comunque ogni volta che ci sono le regole nuove sul canale Telegram, ve le riporto sempre tutte in maniera specifica. Dopodiché facendo delle azioni, facendo dei volumi di trading, facendo alcune azioni, solitamente si può anche aumentare il numero di ticket, e quindi aumentare anche la possibilità di vincere al launchpad. Senza togliere che se siete veramente fortunati, qua dipende dalla vostra aura di fortuna che avete sopra la testa, potreste vincere anche con più di un ticket, quindi vi rapportate a casa il doppio, il triplo dei premi. Non è banale, assolutamente, però se partecipate spesso, partecipate con costanza, c'è più probabilità. Bene, passiamo adesso ai token Splash, e agli airdrop Hunt. Secondo me sono cose abbastanza simili, però in realtà richiedono effettivamente modalità di interazione differenti, quindi ve li presento insieme, ma in modalità di staccata. Partiamo dai token Splash. Prendiamo il primo token Splash, qua LL, il quale evento finisce in poco meno di 15 giorni, Join Now. Allora, il token Splash troverete sempre, una parte dedicata solo ai nuovi utenti, e ora ne parliamo, e una parte sotto dedicata agli utenti, che sono già utenti di Bybit, da prima che iniziasse questo evento. Quindi è chiaro che per i nuovi utenti c'è una parte un po' più cicciosa, un po' più corposa di rewards, mentre per chi è già utente, ce n'è un pochino di meno. In questo caso, andiamo a vedere che cosa chiede per i nuovi utenti. Chiaramente di registrarsi da un certo periodo a un altro, quindi per essere nuovi utenti bisogna essere registrati, in questo caso, dopo le 8 di mattina del 23 aprile, e prima dell'8 maggio. Questo è il quando potete partecipare, quando essere nuovi utenti per questo evento, completare una delle due task, in questo caso. Quindi task 1, depositare 1000 LL, che è il token appunto di cui si sta parlando, oppure in alternativa depositare 100 USDT, e tradare almeno 100 USDT di LL. Quindi sostanzialmente basta comprare, depositare 100 USDT, comprare 100 USDT di LL, e rivenderli. Se volete anche istantaneamente, non c'è nessun problema, e avete fatto questa parte qua. Fate queste azioni, o l'una o l'altra. Attenzione, perché alle volte, può esserci scritto che si devono fare entrambe, ma quando c'è OR, vuol dire o una o l'altra, in maniera chiara, vincete 100 LL. Ora, attenzione, alle volte c'è anche scritto un max numero di persone che vincono, che so, 100 LL per i primi 100, per i primi 200, per i primi 1000, 2000, 3000, quindi guardate sempre. In questo caso, non vedo scritto niente, quindi direi che tutti i nuovi utenti, se fanno questa cosa qua, ricevano 100 LL. Poi, leggete bene le tempistiche, perché qua, casca tante volte l'asino. 2024, 4 aprile, 23 aprile, inizia, sempre il 23 aprile, LL deposits, sempre il 24 LL di Sting, quindi il giorno dopo, rispetto allo start, viene listato LL su Bybit, e poi i risultati vengono annunciati l'8 maggio, e a quel punto, poi chiaramente, i token vengono dati praticamente istantaneamente. Ve lo dico perché, spesso le persone mi chiami, mi contattano, mi scrivono dicendo, eh ma a me ho partecipato, ma non mi ha dato liquidi la attenzione, perché spesso banalmente è un problema di tempistica, ossia basta leggere la scheda, e capire perché qualcosa non è ancora successo. In altri casi, invece qualcuno mi contatta, dicendomi, eh però io non ho ricevuto, e allora lì dovete stare attenti, se siete rientrati magari nei primi mille, se l'avete fatto, se era solo per i primi mille, nuovi utenti, e voi siete stati il duemillesimo utente di quell'evento, è chiaro che non potete partecipare, mi spiace, perché chiaramente mi farebbe piacere, però bisogna sempre stare un po' in campana in queste cose, e prenderle quasi subito, cioè quanto prima, più che altro, per poter ricevere il meglio. Stessa cosa per quanto riguarda, se siete già utenti, cioè la cosa è esattamente la stessa, quindi login e register, completa la task, che in questo caso è una unica, non è alternativa a qualcos'altro, trada almeno 100.000 USDT di valore in LL, sul mercato spot, e poi ci sarà un'allocazione di 5.000, fino a 5.000 LL, per ogni persona, chiaramente attenzione, perché your final allocation, vuol dire in questo caso, e poi di volta in volta dipende, cambia, your trading volume, sul total trading volume of all participants, chiaramente trading volume su LL, che capite, non sarà lo stesso trading volume su Bitcoin, cioè sarà un trading volume abbastanza basso, rispetto ad altri, ad altri, ad altri mercati, quindi, chiaramente, se fate un buon trading volume, almeno 1.000, ma se poi ne fate di più, chiaramente, vi accaparrate, una quota maggiore, di tutto quanto, fino a un massimo di 5.000 LL, perché la price pool, verrà divisa fra tutte le persone, che hanno almeno, tradato 1.000 USDT, quindi, se siete grandi tradatori, e se in particolare, volete tradare su questo nuovo token, sicuramente, potete andare a guadagnare, fino a 5.000 LL, che sono sicuramente, un ottimo gruzzoletto, questo è il funzionamento, degli splash token, dall'altra parte, invece, airdrop hunt, in questo caso, per esempio, vediamo safe airdrop event, quindi safe, è proprio il token, che stanno airdroppando, in questo momento, vedete, complete tasks to win, token airdrops, qui vengono proprio chiamati, quasi airdrops, cioè, se fate delle azioni, vi regaliamo i token, e facciamo join now, in questo caso, e andiamo a vedere, che cosa ci dice, login, register, questo per forza, complete tasks, quindi, task 1, follow by bit official, su Twitter, su X, task 2, follow safe, che sarebbe il progetto, in questione, quote, repost this post, with your comments, quindi, una volta fatti i primi due, vi viene dato un check, e vi viene sbloccato il terzo, quindi, dovete ripostare, oppure commentare, un post, che vi verrà detto, poi, dovete per esempio, in questo caso, depositare, almeno 100 safe, o 100 usdt, all'interno di by bit, dovete almeno, fare un trade, da 100 usdt, o di safe, sul mercato spot, e poi, a quel punto, sarete elegibili, per andare a vincere, dei safe, ma attenzione, anche in questo caso, leggete bene, 20.000 lucky users, fortunati utenti, saranno randomicamente, scelti, per vincere 6 safe, quindi non è che basta fare tutte queste cose, per vincere, bisogna anche, avere un po' di fortuna, certo, 20.000 utenti, sono parecchi, veramente tanti, quindi, diciamo che se uno partecipa, può anche vincere spesso, chiaramente, vincerà 6 safe, che bisogna capire poi, quanti sono, in valore, ma, sono tutte cose, che richiedono così poco tempo, followare by bit, followare un altro, ripostare su telegram, su twitter, completare due task, e dare conferma, che veramente, uno in tre minuti, le può fare, e tranquillamente, può partecipare, eventualmente vince, se non vince una volta, vince una volta dopo, per quanto riguarda l'Eletro Punt, c'è anche una seconda parte, molto interessante, che riguarda, l'invitare, nuovi amici, nuove persone all'interno di by bit, quindi, se invitate, nuove persone all'interno di by bit, potete partecipare, a una pool, di 15.000 safe, che sarà divisa, fra tutti quelli, che hanno invitato altre persone, che chiaramente, poi si sono realmente iscritte, questo perché, perché c'è questa pool grande, non è facile convincere qualcuno, a iniziare a investire in cripto, a portarlo sulla strada del cripto, quindi uno lo può far fare, ai parenti, a qualche amico, poi le persone finiscono, quindi effettivamente, non è banalissimo, partecipare a questa parte di contest, e se lo fai, il premio è chiaramente, molto molto più alto, bene detto questo, al di sotto di ogni contest, mi raccomando, ci sono i termini e condizioni, li trovate sempre qua, anche chiaramente, all'interno di questo token splash, trovate tutti i termini e condizioni, all'interno di ogni launchpad, ci sono i termini e condizioni, così come all'interno di ogni launch pool, ci sono i termini e condizioni, è fondamentale saperli, perché, come dire, è giusto sapere, quali sono le regole del gioco, prima di iniziare a giocare, dopodiché, Bybit è sempre, è sempre estremamente chiaro, quindi, è vero che poi ti rimette le regole del gioco, ma tanto, tutto quanto, te lo dice già, nella pagina, per non fregarti, per non indurti a fare, delle azioni, che poi magari, non porteranno, assolutamente niente. Amici, amici, io vi ringrazio, per aver visto questo video, spero sia stato utile, per chiarire esattamente, che cosa servono, questi quattro servizi differenti, che vi ripeto, hanno un tasso di rischio, che a mio parere, è paragonabile quasi allo zero, infatti, io partecipo praticamente a tutto, perché ci vuole così poco, quei due o tre minuti, che dopo pranzo, prima di andare a dormire, al bagno, se volete, quando potete farlo, e automaticamente, partecipare, e sperare di vincere qualcosa, non sempre capita, alle volte capita, quando capita, e le cose vanno anche parecchio bene, vi togliete anche qualche soddisfazione, io vi ringrazio ancora, se vi interessa entrare in Bybit, trovate come sempre, il link qui sotto, con allegato, il miglior bonus, di quel momento, se avete domande, non vi peritate a farle, come sempre, fatemela qui sotto nei commenti, mi permette di fare contenuti, ancora più approfonditi, mi permette di capire, se mi sono spiegato bene, detto questo, io vi saluto, vi ringrazio, mettete un bel like, registratevi al canale, venite sul canale Telegram, se vi interessano argomenti di questo tipo, mondo cripto, ogni giorno do notizie fresche, appunto, proprio sul mondo cripto, mondo della finanza, ancora grazie, noi ci vediamo in un prossimo contenuto, ciao!